Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Di fronte alla morte di Lucrezia, tutti desideriamo interpellare Gesù e ritrovare la forza di amare, nonostante questo momento di grande difficoltà. E vogliamo che oggi questo dolore della famiglia diventi la preghiera di tutta intera la comunità cristiana di San Giovanni La Punta, sia a lei che lascia questo mondo, sia per colui che rimane in questo mondo. Sono eventi tragici che certamente fanno tanto riflettere tragedie familiari che sconvolgono il normale andamento della vita comunitaria. L'unica cosa che posso dire che abbiamo fatto in questi giorni e continueremo a fare è pregare per questa famiglia, stare loro vicini con tutto il nostro affetto e impegnarci affinché le famiglie siano sostenute, aiutate e soprattutto anche confortate nel loro cammino di crescita, di educazione dei figli e di sostegno. L'unica cosa che mi ha colpito stamattina andando a casa è che la madre ha chiesto a noi sacerdote di pregare per il figlio Giovanni. Una comunità che si ferma con grande segno di rispetto per il dolore di una famiglia che sta vivendo questa tragedia in mane che di fatto ha perso due figli. Una famiglia per bene, persone inserite nel sociale. Questa tragedia, così come tante altre, debbono fare riflettere ognuno di noi per percepire magari quei segnali che a volte vengono sovrastati dalla quotidianità per cercare, qualora ci siano le condizioni, di capire in tempo se ci sono anche delle situazioni, delle condizioni, delle cose da fare a cui porre la giusta attenzione.